Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Tra i nuovi concorrenti del grande fratello VIP 6 c'è anche Alessandro Basciano, ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore di uomini e donne. Il modello, nato a Genova nel 1989, sta già facendo parlare di sé. Non tanto nella casa, quanto fuori. Sì perché Alex Belli, eliminato dopo tre mesi di reality, pare si sia ingelosito del rapporto che Basciano vorrebbe instaurare con Soleil Sorge, con cui Belli aveva costruito una chimica artistica. Anche se hai le stesse mie iniziali, ab sei un copia in colla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali, ha infatti twittato ieri 19 dicembre l'attore di Cento Vetrine. Effettivamente Soleil e Alessandro pare che si siano già trovati, tanto che hanno dormito insieme. Peccato però che la mattina successiva la ragazza si sarebbe confidata con Sofico Degoni, dicendole, eravamo proprio intrecciati ogni oltre limite della confidenza. Sentivo il suo respiro, giuro, un momento un po' imbarazzante. Come andrà a finire? Alfonso Signorini già si sta già sfregando le mani.